Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash e oggi siamo tornati su Ultimate Chicken Hours Ovviamente facciamo una partita online, la ospitiamo e vedremo che cosa succederà Ovviamente, so, è sempre una solita cosa, è sempre il poio, il poio E aspettiamo che arrivi con qualcuno, intanto io qua mi sistemo Ok, sono arrivate delle persone e ho sistemato modalità Ho cambiato la modalità di gioco al posto di vincere a punti Bisogno vincere a tempo, ovvero chi fa più punti in un determinato tempo Ho fatto due partite da sei minuti, spero che basti Non lo so onestamente Ok, è molo, è sì a molo Ho fatto una partita da sei minuti solo perché così ne possiamo fare due e non diventa una partita troppo lunga Quindi possiamo fare così, mettiamolo qua LOL Dai, lì c'è della colla, pre-s Vabbè, a quanto pare... Ok, non so come funziona la modalità a tempo Però spero che funzioni bene Easy peasy, muori veramente Non muore, ok Sembra... cioè, sembra strano che non sia morto Troppo facile, niente punti Ok Quindi la porta e... boh, mettila qua Mi sembra un punto... cattivo Boh, forse Sarebbe più cattivo se l'avessi messo sotto Per il momento tanto si può passare, quindi Ok Fatto È ancora troppo facile a quanto pare Ok Ora inizia a diventare un po' più complicato Non metterlo... non metterlo in cima No No Ti prego Ti prego Che lezzo Ok Però... è fatto... oh, questo Cos'è questo? Sali, sali, sono in vita E muoiono entrambi Sì Incredibile, non so nemmeno come ci sia riuscito Ok Buona Spero che arrivi una bomba perché... Prova a prendere questo E provo a fare tipo una scalinata qui La scalinata... Salva vita Forse Ok Vai giù Sali E stiamo qui un attimo Ok Sì, era proprio la scalinata della vita Ok Perfetto Sto andando molto bene Quasi finita la partita E a quanto pare non è a tempo Come avevo chiesto Peccato Dobbiamo fare lezzi Ne mettiamo un altro qua Così proviamo Mettila pure lì Tanto non è un problema Anche perché facciamo così No Mi si è sminchiato un attimo Per un secondo Eh, sei morto Mi dispiace Mi dispi Fa musica Veramente bella Prendi la moneta Eh, boh Mettila qua Don't you dare Moki Dove la metti Ah, ok Va bene lì It's not a problem Ok Ora ci facciamo furbi Andiamo qua Oh no Oh, corri Jimmy Rip Eh, no In pratica dovrei salire Lì Guarda Lo sto indicando Ma non potete vedere Ovviamente Oh, una bomba La bomba potrebbe tornare Dove la vuoi mettere? Ma no A farlo E ora Come faccio a prendere la moneta? Bella domanda Vabbè, comunque Ora dovrebbe essere Un po' più facile Esatto Rimaniamo qui Ok Pazzo 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 Ok, quella moneta O Riesco ad ottenere Una bomba Oppure è impossibile Mancano tre turni Di già Bomba Ah, però Ah Don't you dare Moki Ok Va bene Piazzala pure lì Io intanto Mi vado a prendere la moneta Perfetto Ah, tu sei salito lì? Ok Sì Mi puoi zoomare anche un po' sotto Grazie Grazie Eh, io Bitch No No Quel fiore Quel maledetto fiore Oh mio dio Mancano due turni Voglio prendere quella moneta Dai Ah, dai Vai, vai lì Bravissimo Ti stimo un casino Ok Vai a prendere la moneta Ovviamente però Stiamo attenti Sali qua Bello Uno è morto Oh Molto rischioso Quello che ho appena fatto Speriamo che scendi immediatamente Prendi la moneta E sali Ok E Boom Che vittoria Che vittoria Wow La moneta Proprio da Mission Impossible Oh mio dio Mi si è aumentata All'improvviso la musica Perché mi sa che ho toccato Il volume Vabbè Eh, una partita è andata Tetti Ok Ah, come on Come on Ok Oh, tetti o cascata E a quanto pare tetti Troppo bello Sì però Partiamo No Ah Dai Sbrigati Vieni cavallo Ok Basta muovermi Perfetto È un po' di tempo che non faccio Questa arena A quanto pare c'è molto legno Perché What the fuck È rosso Per qualche strano motivo Sì è È stranamente È rosso Il legno O almeno Oh No No Accidenti Per me è vero Ma vieni Il camaleonte Oh che figo Quegli occhiali Stimpal Bello Sono anche arrivato Primo GG Il cavallo Lugga come Un cavallo Proprio Beh Almeno sono arrivato Primo GG Abbiamo Questo Uh sì Questi qui mi divertono Un casino Queste Le robe Con la sega Circolare Sono troppo Troppo fake Mettiamone uno Tipo per così Fai così Fai così Uh molto rischioso No No ok Sali 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 per Stalin E arrivo di nuovo Primo Cioè Non per No Sono abbastanza Pio Onestamente Però Forse è solo Una mia impressione Di nuovo Primo Quindi GG Mi piace Mi piace No Ho preso Ho preso Il coso Strano Ma Damn it Primo Fare Tipo così Eh sì Grazie Cos'è Questo schifo Cos'è Questo schifo Sinceramente Sinceramente È stata una buona mossa Per me Almeno Quella Quella cosa No Salvati 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 GG Grandissimo Cavallo Buono Il cavallo È corso Addosso Alla spina Perché è un grande Chi è Yabakta Yabakta Qualcosa Del genere Vabbè Comunque Ha fatto Stack Vediamo se No Non ci casca Sfortunatamente Non ci casca E sono In netto vantaggio Rispetto agli altri Mi piace Questo Mi piace Buono Proviamo a metterlo Tipo Qua Dovrebbe colpire Fino all'inizio Fino allo start Quindi vi consiglio Di saltare Tutti Allegramente Ecco Lui Non mi ha Seguito Non ha seguito Il mio Consiglio Spassionato Ok Allora qua No Ok Sono stato Stupido Ok Che saltone E ora Morca il cavallo Che morirà GG Che morte Fluttuante What up E vabbè Ho vinto È stata abbastanza Veloce Però Beh GG Vediamo Complimenti No Non c'è Un GG No Non c'è Un GG Incredibile E vabbè ragazzi Per questo video Direi che è tutto Vi chiedo di lasciare Come sempre Un mi piace Commentate Iscrivetevi al mio canale Se non l'avete ancora fatto Iscrivetevi a tutti gli altri canali Correlati Condividete il video Se vi è piaciuto E noi Ci vediamo Un prossimo video Un saluto salato E ciao Ciao